Grazie Presidente per dichiarare il voto favorevole della maggioranza a questo ordine del giorno, alcune delle attività indicate nell'ordine del giorno l'amministrazione le sta già facendo, però se c'è un rafforzativo io credo che sia assolutamente importante, mi riferisco per quello che si sta già facendo, per esempio la campagna pubblicitaria che AMA ha fatto sugli autobus, sul non gettare le mascherine per terra, che è stata una campagna anche molto efficace, molto ben fatta e anche l'invito a cercare di rafforzare tutta la capacità che Roma Capitale può mettere in campo attraverso la polizia locale per i sanzionamenti in questi casi. L'amministrazione già sta percorrendo questo, però sinceramente la maggioranza vota favorevolmente a questo ordine del giorno perché è un rafforzativo, ci sta tutto per cui votiamo sì. Grazie.